Radio Streghetta, l'oroscopo. Segui Rinascente Tell e i servizi che ti offre il tuo oroscopo tutti i giorni, sia su Facebook, Twitter o su 899 90 90 70. Ariete. Movimenterete una situazione statica, non saprete stare con le mani in mano e vi adopererete per dare l'assistenza a qualcuno che per voi conta parecchio. Riceverete elogi e attestati di stima, di seguito a una coraggiosa presa di posizioni. In amore la persona del quale vi guarderà con occhi diversi. Toro. Farete meglio a concedere una possibilità. La tendenza a non lasciare neanche uno spiraio di dialogo potrebbe ritorcersi contro di voi nel momento in cui avrete bisogno. Evitate inutili paternalismi e siate concreti. In amore non dovrete far nascere un inutile antagonismo con la persona amata. Gemelli. Non sottovalutate gli eventi, giudicherete qualcuno in maniera eccessivamente superficiale e verrete colti di sorpresa. In amore si prospettano dei simpatici giochi. Cancro. Un sogno ricorrente da molto tempo, ma che non avete mai voluto mettere in un cassetto, finalmente sta per portare i suoi frutti. Anche se ci sono voluti molti sacrifici e in un certo senso per alcuni era pura utopia. Ma voi, sempre caparvi, ed è giusto che veniate così, e sarete ricompensati. Leone. Agirete nonostante la totale mancanza di voglia e verso un lavoro che solitamente rapido e di routine vi apparirà molto pesante e terribilmente noioso. Dovrete quindi tenere duro almeno fino al pomeriggio, dato che vi verranno proposti degli interessanti passatempo. Vergine. Un breve allontanamento non influerà più di tanto sul vostro umore, ma sarete colpiti da un gesto nei vostri confronti, che non vi saresti mai aspettati e la famiglia costituerà il fulcro della vostra giornata e una notizia insolita porterà il sorriso. In amore vivrete un momento di serenità che non capitava da qualche tempo. Bilancia. La semplicità ripaga quasi sempre il vostro inesauribile, instancabile impegno anche nei confronti di un lavoro che non vi compete, ma la vostra correttezza vi porterà a chiudere un occhio un po' su tutto il comportamento generale, anche quello dei colleghi, che magari possono essere un po' meno sensibili. Scorpione. Attenti alle insidie, evitate di essere troppo precipitosi nel fare qualcosa, perché sotto una pattina di tranquillità potrebbe celarsi un pericolo invisibile. Date ascolto ai consigli delle persone più esperte e dubitate di chi dovesse tentare di coinvolgervi in qualche attività strana. In amore supererete un limite. Sagittario. Bellezza e virtù. Oggi ne sarete protagonisti, facendo sfigurare chi vi sta accanto. Per i maschietti, lunga la giornata costruita da impegni interminabili per i papà e per i single, fatta di lavoretti da troppo tempo rimandati. Per le femminucce, oggi grandi divertimenti. Aree commerciali non si salveranno e in più, per alcune, ci sarà un incontro che vi lascerà di stucco. Capricorno. Dovrete fare una scelta sul lavoro, sarà per voi difficile trovare l'equilibrio con i colleghi che appaiono ostici. E allora sorridete e tutto si appianerà. In amore rivaluterete quella che pensavate essere soltanto un'amicizia. Acquario. Tutti i buoni propositi degli ultimi mesi riguardo a una faccenda che assolutamente vi stava a cuore ha preso improvvisamente tempo e questo vi renderà abbastanza nervosetti, giustamente direi. Ma cercate almeno di consolarvi con l'amore che invece sembra aver superato quei momenti di domande senza risposta. Pesci. Siete un po' stanchi nelle ultime settimane, per alcuni di voi si sono cavallate una serie di situazioni che vi hanno un po' destabilizzato, ma cercate di tirare sul morale nulla irrisolvibile, quindi cerchiamo di prendere il capo del filo e della matassa e con calma tutto si risolverà. Siete un po' stanchi nelle ultime settimane, quindi cerchiamo di prendere il capo del filo e della matassa e con calma tutto si risolverà.